L'Italia si accinge ad andare al voto, 4 marzo è ormai alle porte, alleanze e strategie, che cosa bolle in pentola per questa coalizione? Bolle in pentola qualcosa di molto positivo perché incrociando le dita il centro-destra dovrebbe essere la forza politica che torna a governare il paese in un momento sicuramente difficile, in un momento dove i problemi da affrontare sono tanti, ma in un momento anche in cui ci vuole il senso di responsabilità di un centro-destra che era stato violentamente defenestrato nel 2011 e che finalmente dopo sette anni torna davanti all'elettorato con le sole carte in regola per riprendere un percorso positivo e virtuoso che era stato interrotto e che è stato devastato da delle politiche veramente clientelari di incentivi a pioggia, di piccoli contributi elettorali, diciamo la verità. Gli ultimi sondaggi vedono appunto il centro-destra che vola, però il primo partito resta sempre quello del Movimento 5 Stelle. Com'è possibile? Come se lo spiega? È possibile perché, se mi permette, io la correggo al momento, ma siamo ancora, diciamo così, in una situazione a freddo prima che parta veramente la campagna elettorale, il primo partito purtroppo è ancora quello dell'astensione. Se lei mette insieme il dato dell'astensionismo con il dato appunto del voto al 5 Stelle, noi vediamo la fotografia di un elettorato che è ancora molto disilluso, molto arrabbiato e non a caso, mi ricordo se era l'Istat o il Censis, aveva fotografato un paese dove cresceva il rancore. Ecco, questo credo sia il dato che è quello più significativo per chi fa politica. Noi dobbiamo recuperare quella capacità di entrare in sintonia, dobbiamo recuperare le motivazioni per cui noi siamo entrati in politica. Io sto dentro le istituzioni, ma cerco di vivere il più possibile a contatto con le persone, con il mio elettorato, con la mia base, perché è soltanto lì che riesco a capire quali sono veramente le esigenze e quali sono veramente le necessità di una popolazione che non vuole più sentirsi raccontare bugie, perché quando ci dicono il lavoro sono aumentati i lavoratori, ma poi andiamo a vedere che il monte ore è drammaticamente più basso del momento pre-crisi perché mancano la pelle un miliardo e cento milioni di ore lavoro. Allora come fai a raccontare queste bugie? L'elettorato, se sente raccontare queste cose, perde fiducia in tutta una classe dirigente e noi dobbiamo invece recuperare la fiducia ad una classe dirigente che non è fatta neanche soltanto di politica, ma pensiamo a quello che hanno combinato alcune banche, pensiamo a quello che hanno combinato alcune università. C'è drammaticamente un paese ancora con delle potenzialità straordinarie, ma che deve essere in qualche modo rimotivato e recuperare la fiducia e uscire da questo sentimento del rancore che è la cosa peggiore che possa capitare ad una comunità. L'ultima battuta, velocemente, Renzi potrebbe essere un alleato del centro-destra? No, assolutamente no, guardi poi sono Veneta, per me se mi dice una cosa del genere mi viene, guardi la pelle d'oca e l'orticaria, assolutamente no. Noi siamo un centro-destra chiaro con delle divisioni insormontabili rispetto alla sinistra. Io penso alla mia carta dei valori di Forza Italia, penso al credo laico di Forza Italia, penso alla centralità della persona che viene prima dell'essere cittadino, altro motivo che mi tiene totalmente distante dai 5 Stelle. Loro si sentono cittadini, no, io sono con Antigone, io sono nata con i miei diritti, con i miei valori e lo Stato me li deve riconoscere, assolutamente non aspetto di diventare cittadino per rivendicare quelli che sono i miei diritti.